Mi troviamo allo stand di Talcorse e sono in compagnia di Mirko Mizzoni, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Allora, qui alle nostre spalle abbiamo un fantastico go-kart, ci vuoi raccontare un pochino? Tu sei il... mi stavi dicendo? Salve, io sono il costruttore, mi chiamo Mirko Mizzoni, sono uno dei soci produttori di questi di Talcorse, omologati tutti a livello internazionale, facciamo una produzione e una vendita diretta al pubblico e in più abbiamo una scuola di pilotaggio dove insegniamo i bambini a guidare. Ecco, quindi una scuola guida proprio rispetto ai bambini, da che fascia di età incominciano a guidare la... Cominciamo a guidare, a far guidare un go-kart dai 5 anni, la scuola è in sede ad Aprilia sulla pista, sul circuito internazionale di Aprilia. Per altre informazioni dove possiamo trovare? Avete un sito, una pagina Facebook, così magari qualche bambino che è interessato vi può raggiungere? Abbiamo il nostro sito che è info.chiocciolitalcorse.eu e una mail da seguire per la scuola, il nome della scuola è Jokart School e ripeto è in sede ad Aprilia, potete trovare tutti i riferimenti sui siti internet diretti delle ITAL Corse. Quante volte si possono allenare questi bimbi? È sufficiente una volta a settimana? Anche perché per loro poi è anche esclusamente di divertimento. Per i bambini diciamo che è fondamentale metterli almeno una volta a settimana per fare un approccio vero e proprio. È ovvio che per diventare professionismo ci vuole molto di più. Da che età possono essere? Possono fare le gare? Possono diventare diciamo dei professionisti? Già dai sei anni ormai c'è una categoria che è chiamata entry level dove possono confrontarsi in delle esibizioni che comunque sono vere e proprio gare. È ovvio che competizioni di un certo livello arrivano intorno ai 8-9 anni. Io penso che ci sia molto divertimento e siano seguiti da parecchie bimbi immagino. Sì sicuramente sì e ne aspettiamo tanti altri da poter formare e metterli su questo settore che è un settore di formazione vera e propria alla pista. Anche perché poi insegnate anche a loro già da piccolini anche tutte le varie norme di sicurezza immagino. Proprio così che noi facciamo un corso sia teorico che poi di guida vera e propria. Con piloti sempre esperti che fanno lezioni di guida oltre a Giorgio Di Giorgio e Alessandro Donati che sono gli istruttori degli enti promozionali. Benissimo allora grazie e buona giornata e a presto. Grazie a voi.